Carte di credito verso carte di debito. Cosa sono? Come usarle al meglio in maniera da non rimanerne scottati? Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo in modo particolare di come gestire al meglio le nostre finanze. Il video di oggi è un video dedicato a capire la differenza tra le carte di credito e le carte di debito in modo da utilizzarle nel modo più congruo alle nostre finanze e senza il rischio di farci mettere in situazioni di difficoltà. Quindi se ti interessa capirne di più e sapere come usarle al meglio, mi raccomando, guarda il video fino alla fine. Ma prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast dei tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo IP ti sarà piaciuto. Come dicevamo, carte di credito o carte di debito, cosa sono, come vengono utilizzate, qual è la differenza? Le carte di credito, per loro stessa natura lo dice il nome, sono delle carte che ti danno credito, quindi ti danno la possibilità di spendere soldi che tu ancora fisicamente non hai. La carta di credito non è vincolata al tuo conto corrente o a quanti soldi hai sul conto corrente. In realtà è vincolata alla tua capacità di restituire il credito, quindi quando chiedi una carta di credito, l'ente che ti fornisce la carta di credito fa una valutazione, ti chiede una serie di dati per essere certo che i soldi che ti presta vengano restituiti alla scadenza. Con la carta di credito, quindi tu hai una carta fisicamente in mano che ti permette di prelevare e pagare anche se tu non hai al momento i soldi sul conto, fino al massimo previsto dalla tua carta. Attenzione però è che quando prelevi con la carta di credito è sempre applicata una commissione con degli interessi. In orte la carta di credito ha solitamente il pagamento delle cifre posticipato nel tempo, di solito al mese successivo. Oltre alla carta di credito classica, quella che abbiamo visto, esistono anche le carte di credito prepagate, che sono diverse rispetto alle carte di credito normali, perché a quel punto lì in realtà tu non stai più lavorando col credito. Tu devi mettere sulla carta di credito i soldi prima di poter avere accesso. Qual è l'utilità di questo genere di carte di credito? Semplicemente che se devi fare degli acquisti senza utilizzare il bancomat, perché magari sono tipo acquisti online, piuttosto che altri acquisti o altro genere di attività dove è richiesta una carta di credito perché non accettano fisicamente la carta di debito, allora questo tipo di carta ti dà la possibilità di avere una carta di credito senza però avere un credito. La carta solitamente viene emessa dagli stessi enti che emettono una carta di credito normale o dalla tua banca e viene ricaricata a un costo di qualche euro che cambia da banca a banca. Quando invece parliamo di carta di debito o bancomat come è più noto, parliamo di una carta che permette di prelevare i soldi che sono già presenti sul tuo conto corrente. A volte è un conto corrente classico, a volte può essere un conto corrente fatto direttamente con la carta. In ogni caso quando parliamo di carta di debito stiamo parlando di una carta dove puoi prelevare o pagare al massimo fino alla cifra che tu hai già fisicamente sul conto, quindi non c'è la possibilità di spendere prima di avere i soldi, i soldi devono essere presenti sul conto. Quando si può utilizzare la carta di debito? Beh tutte le volte che vuoi pagare senza andare in giro con i contanti o quando i contanti o gli assegni non sono accettati. Cosa è meglio quindi utilizzare tra carta di credito e carta di debito? Dipende molto da quello che tu vuoi fare e da qual è il proposito. Io in generale tendo a utilizzare la carta di credito soltanto per fare quelle prenotazioni o quelle attività che richiedono espressamente una carta di credito. Non credo che sia una buona idea utilizzare la carta di credito per posticipare gli acquisti se non ho i fondi disponibili. Il rischio di utilizzare la carta di credito in continuazione e di continuare a pagare cose che non ci si può permettere è quello di indebitarsi. Mi ho parlato in alcuni video che trovi qua sotto se vuoi guardarli per avere più chiare le tue idee. Però ci sono delle situazioni in cui oggettivamente la carta di credito può essere utilizzata e in ogni caso avere una carta di credito che permetta di fare prenotazioni di servizi che richiedono una carta di credito classica come per esempio noleggiare un'auto è qualcosa che ha senso fare. Se la utilizzi con il giusto approccio la carta di credito è qualcosa che ha assolutamente senso avere. Per tutte le altre occasioni personalmente credo che sia molto meglio utilizzare la carta di debito quindi il Bancomat. Bene questo piccolo video sulla differenza tra carte di credito e carte di debito finisce qua. Spero ti sia stato utile per capire come funzionano e per farti un'idea di come utilizzarle al meglio. Se il video ti è piaciuto mi raccomando sostenilo con un like ed eventualmente inoltralo a chi pensi possa trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto ma questi argomenti ti interessano e vuoi imparare a gestire meglio le tue finanze ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. Ciao e alla prossima!